Ottanta anni del plesso Marconi, continuano le manifestazioni per ricordare questo evento. Direttrice Gentile, allora manifestazione importante stamattina con lo svelamento di una targa. Sì, lo svelamento della targa è un gesto simbolico, ma dietro al quale ci sta tutta la storia del Marconi. Quindi è un gesto assolutamente importante, per cui io invito che quando si guarda questa targa, non si deve vedere una semplice targa, ma si deve vedere tutta la storia di coloro che hanno contribuito a determinare quello che oggi è il Marconi. Una storia che poi continuerà dopo con la consegna di riconoscimenti a tante persone che sono passate, hanno fatto la storia, hanno vissuto nel Marconi. Come dicevo la volta scorsa, il passato non va calpestato, quindi oggi sarà anche la giornata in cui si onereranno, si farà onore anche a tutte le persone che con il loro servizio hanno contribuito sempre alla storia del Marconi. Ovviamente tutto questo è nella memoria, va trattenuto nella memoria, perché questa memoria sana, salutare, ci sarà di orientamento nella vita per poter determinare il miglioramento della nostra società. Ben 32 anni, è veramente passato i migliori anni della mia vita e ho svolto questa attività interpretandola non come professione, ma come missione educativa e quindi gli alunni, i bambini sono stati veramente la mia gioia e mi sono sentito veramente realizzato come uomo e come maestro. Quanta emozione stamattina nel ricevere anche un riconoscimento? Beh, l'emozione è senz'altro grande, ma devo dire che in effetti una targa è un orpello che potrebbe gratificare la nostra vanità di uomini, ma io penso che la più grande gratificazione sia quella di essere a posto con la propria coscienza di aver fatto o aver tentato di fare pienamente il proprio dovere. È stata una bella iniziativa, devo ringraziare la direttrice gentile per la sensibilità che ha avuto nell'organizzare questa serie di iniziative proprio per evocare gli 80 anni di questo plesso scolastico. Un plesso scolastico che ha introdotto la società a tanti bambini che poi sono diventati gli uomini adulti di oggi e che reggono lì al divenire del nostro paese. Ed era giusto quindi sottolineare questa data importante, questo compleanno importante di questo plesso.